Il presidente Giuseppe Di Pangrazio è intervenuto all'evento annuale organizzato da Officina L'Aquila sul tema del restauro e della rigenerazione urbana. Di Pangrazio ha incentrato il suo intervento sulla vulnerabilità sismica degli edifici ricordando l'esperienza della rigenerazione del complesso monumentale dell'emiciclo. È un nuovo approccio di ricostruzione pubblica, ha detto, dove il modello adottato si basa sulla velocità della ricostruzione, su modelli innovativi di sicurezza e sulla partecipazione dei cittadini. Una presentazione che arriva a pochi giorni dall'apertura del palazzo Ex-Gil, esempio concreto di opera monumentale riconsegnata al territorio con una percentuale del 100% di antisismicità, così come ricordato dall'ingegner Vetturini, progettista del nuovo complesso emiciclo. Di Pangrazio è inoltre sottolineato come risultati raggiunti in termini di celerità nel completamento dei lavori e buona gestione delle risorse siano stati possibili grazie ad un controllo degli uffici attento e costante. L'emiciclo ottiene così l'ennesimo riconoscimento di cantiere modello ed aperto al pubblico e si candida a fare da apripista per interventi dello stesso tipo.